Frente Mudanza, la quale Xanana, Tula Lima, Mba Ema, Atusai, Presidente Repubblica. Frente Mudanza, la quale Lider Nasional, la Lider Karismatica, Tula Lima, Mba Ema, Atusai, Tula Lima, Mba Ema, Atusai, Presidente Repubblica. Frente Mudanza, la quale Xanana, 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 la Si chiede, ci sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono i ragazzi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.